Sono contento perché ti ho visto anche arrabbiato, vuol dire che ci sieni tantissimo. Com'è andata? Abbiamo rotto il ghiaccio, abbiamo cominciato la stagione, abbiamo fatto giocare tutti i nostri giocatori, abbiamo cominciato a vedere qualcosa in campo. Bella a lungo, anche in doppia, poi resistenza finale dopo il ritorno di Ragusa. Tante belle risposte, tante cose sulle quali lavorare e migliorare. Sicuramente, questo era solamente il primo incontro che facevamo in stagione, mi ha fatto giocare 12 ragazzi che non si conoscevano, quindi che hanno bisogno. È bello passare delle parole ai fatti, Coach Cadeo, il tuo capo allenatore l'aveva detto, avremo un'unica identità, ho visto gli stessi raddotti, la stessa difesa a tutto campo. L'identità è quella, l'identità tecnica che stiamo cercando di portare dai 15, 17, 19, tutti i ragazzi hanno un obiettivo comune. Una buona parte del tuo cervello sta pensando a Marigliano? Sì, adesso sì, perché domani mattina ci visitiamo con i ragazzi in palestra per lavorare sui video e per lavorare sul finamento tecnico-tattico della partita di domenica. Poi arrivi da un'altra realtà, da un altro mondo cestistico all'altra parte d'Italia. Io l'ho avuto nel 1991 al corso allenatori ed era una persona splendida, lui era un amante della palcanese. Come ho fatto presente ai nostri ragazzi, siamo a Reggio Calabria tutti quanti per un motivo e uno dei motivi è anche lui. Grazie mille Stefano e buon lavoro. Grazie a te.